300 uomini, fra agenti militari impegnati, due organizzazioni che teoricamente sarebbero dovuto essere contrapposte, sono state storicamente contrapposte, ma hanno dato una sorta puntesa invece sullo spaccio di sostanza stupefacente. Esattamente, questo significa che il business non divide, ma anzi unisce le organizzazioni criminali e il business in questo caso è il mercato dello stupefacente. Tenete presente, per avere un'idea dei quantitativi e dei giri di affari, che a uno degli indagati, uno dei promotori di una delle due organizzazioni, il 27 ottobre dell'anno 2017 sono stati sequestrati in contanti 52 mila euro in contanti cash, oltre che in un deposito, ucili a cannemozze, pistola con silenziatore e un'altra pistola. Quindi questo per dare l'idea del giro d'affari. Il giro d'affari è stato stimato dalla Polizia Giudiziaria non a livello indicativo, ma sulla base dei traffici che avvenivano ogni volta, delle cessioni, dei quantitativi acquistati e ceduti, nell'ordine di circa 60 mila euro a livello mensile come utile. Questo è quello che riguarda almeno una delle due organizzazioni. Gli affiliati, gli associati, o comunque più che parlare di affiliati, mettiamo gli appartenenti a queste due organizzazioni, complessivamente abbiamo stimato, quindi le misure cautelare sono 37 e il GIP ha ritenuto per 30 di loro di concedere la misura del massimo rigore. Quindi custode cautelare in carcere. 8 kg di coca, svariati kg di asci sequestrati per un equivalente di milioni di euro, se vuole dire. Eh sì, i quantitativi sono questi, soprattutto se calcolato il prezzo di cessione al dettaglio. Quindi questo significa che non solo in realtà cittadine, per esempio del nord Italia, il commercio di sostanza stupefacente avviene a livelli elevatissimi, ma anche qui nella provincia di Salerno c'è un giro costante e continuo e quindi una costante anche richiesta di sostanza stupefacente. Le indagini sono iniziate nel 2017, verso la metà del 2017, sono approdate poi ieri, anzi stamattina, con le esecuzioni della misura di custodia cautelare. Ecco, nonostante i vari sequestri nei vari mesi, le due organizzazioni mostravano comunque forza perché continuavano ad approvvigionarsi. Esattamente, non solo mostrava una forza, ma questo grazie anche alla strategia investigativa che è stata attuata, cioè che ha permesso di non lasciare ineseguiti i sequestri di stupefacente, di armi oppure di denaro, perché lo stupefacente quando era di considerevoli quantitativi ed era possibile individuarlo, così come le armi, così come il denaro non si lascia mai evidentemente in mano all'organizzazione, ma le modalità di intervento da parte della Polizia Giudiziaria su disposizione specifica dell'autorità giudiziaria ha permesso di recuperare senza compromettere l'esito delle indagini, tant'è vero che i componenti dell'organizzazione sono andati avanti a commettere i reati e poi oggi abbiamo avuto effettivamente i provvedimenti cautelari per articolo 74, quindi un reato che prevede delle sanzioni che ci auguriamo evidentemente se la bontà della ricostruzione accusatoria avrà conferme, consentiranno anche di tenere lontani dall'attività di spaccio gli autori del reato per un po' di tempo. Conferma questo e conferma il fatto che noi non abbandoniamo mai il lavoro sul traffico e lo smercio di sostanze stupefacenti, come ho avuto più volte modo di dire, è una fenomenologia criminale che preoccupa molto la cittadinanza, preoccupa la collettività e quando noi rassicuriamo le persone sul fatto che stiamo sempre sul pezzo questa è la dimostrazione plastica. Questa operazione di oggi è molto importante, se non la più importante degli ultimi anni perché non si rivolge a meri spacciatori, come avrete avuto modo di comprendere, ma si rivolge soprattutto agli organizzatori di questo traffico, a coloro che la distribuivano, la sostanza è a coloro che la portavano a Salerno, quindi noi siamo particolarmente soddisfatti e comunque le nostre attività stanno continuando. Prevenzione, monitoraggio e repressione? Certamente, noi continuamente, ecco perché la mia presenza in qualità di autorità di Provincia pubblica sicurezza oggi qui è anche per testimoniare questo, che è la prevenzione che per prima ci consente poi di monitorare il fenomeno e poi passare alla parte repressiva degli organismi investigativi. C'è un filone colombiano che abbiamo sentito? Un venezolano e colombiano, sì, più che il filone sono dei soggetti che appartengono a questi paesi ma che noi ormai abbiamo individuato come responsabili di questo traffico. Una delle operazioni più importanti degli ultimi tempi, insomma. Sì, è importante non soltanto per il numero di soggetti che erano indagati e quelli che poi abbiamo arrestato, è importante perché ha colpito due clan che storicamente erano portatori di interessi a limite contrapposti. In realtà qui hanno unito le forze per poter meglio condurre questa attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Assolutamente, noi siamo perfettamente consapevoli, tant'è vero che lo monitoriamo costantemente. Il dato secondo me importante è che le persone arrestate sono tutte italiane, quindi qui si tratta di un livello leggermente superiore anche al semplice spacciatore perché in questo modo per il momento abbiamo in qualche modo interrotto i canali di approvvigionamento del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti sulla provincia di Salerno, canali che come abbiamo visto provenivano sia da Roma sia da Napoli, insomma quindi la cosa importante di queste due attività condotte separatamente da Carabinieri e Polizia, però coordinate e quindi noi eravamo strettamente in sinergia con la Polizia di Stato, ci ha consentito di documentare questi anni di attività investigativa perché l'indagine è partita nel 2017, quindi si è svolta su più step con controlli vari, sequestri vari, sia di cocaina che di hashish che di armi, controlli lungo l'autostrada che apparentemente occasionali ma che in realtà rientravano in questa attività investigativa più ampia e il fatto che sia stata condotta in parallelo per poi convergere è stato questo il successo e io credo che sia importante per il momento aver messo un punto fisso su quella che è l'attività e sui soggetti che su Salerno compiono queste attività. Un successo che figlia anche di intercettazioni particolari, sofisticate, pedinamenti, insomma un sistema molto molto innovativo. L'attività tecnica è fondamentale in questo caso, insomma anche perché i soggetti non è che sono sprovveduti quindi cercano di adottare il più delle volte diciamo delle tecniche disparate, però l'attività di intercettazioni telefoniche, ambientali e di pediniamento è stata condotta in maniera egregia quindi ci ha consentito di intervenire nel momento opportuno anche facendo intervenire altri colleghi dell'arma in altri territori nel momento in cui noi eravamo un pochino più distanti. Questo credo che sia fondamentale, proprio il coordinamento non solo a livello locale, a livello delle forze di polizia e a livello nazionale. Insomma questa è la forza poi di un sistema che sebbene coordinato consente di ottenere dei risultati.